Confidiamo nel lavoro del Parlamento europeo, non soltanto della Commissione ma anche nella plenaria perché sapete perfettamente che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane ci sono stati dei segnali di cambio di rotta rispetto al passato con delle politiche ambientali più pragmatiche e meno ideologiche. L'idea iniziale sta comunque cercando di avere una prospettiva più elastica così come richiesta dagli Stati membri, anche perché lei ricordava all'inizio che si parla di un regolamento che è molto più stringente rispetto alla direttiva quindi io confido assolutamente nel lavoro del Parlamento europeo ma ritengo che ovviamente non si può non tutelare un tessuto economico che ha lavorato perché quando si parla poi del riuso non cambia solamente quelle che possono essere le abitudini di noi cittadini e delle amministrazioni ma cambia anche il sistema tecnologico perché vedete anche l'ecodesign che dovrà avere un oggetto che dovrà essere riutilizzato più volte sarà diverso e che vuol dire che i sistemi produttivi dovranno cambiare ciò che hanno fatto fino adesso con dei costi importanti che verranno scaricati sul nostro sistema economico che in questi anni ha fatto perfettamente bene i compiti che gli sono stati assegnati dall'Unione Europea che giustamente ha investito 20 anni fa sul riciclo e noi con l'economia circolare siamo diventati veramente leader in Europa che è uno dei risultati che sono importantissimi leggevo questa mattina il rapporto del Corepa quindi tutto questo lavoro che sarà fatto dagli italiani che rappresenta come dire sta diventando un'eccellenza, un modello che altri paesi europei potrebbero assolutamente copiare non può essere assolutamente vanificato ed è questa la posizione che noi porteremo come Fratelli d'Italia anche all'attenzione del Parlamento Europeo è un'eccellenza